Siamo davanti allo spugliatoio delle ragazze CFS Utrel-Fintl-Damen. Entriamo a vedere cosa sta succedendo? Vieni! Si stanno preparando per fare il photoshooting per il nuovo calendario. E' la Anna Quintz della rivista Cursion. Quindi sì, siamo noi che facciamo questo calendario, quindi noi che curiamo lo styling e tutti i look delle ragazze. Che look pensate di fare? Ma allora oggi c'è la foto di gruppo, quindi sono tutte insieme, saranno tutte in accampatoio. Poi le prossime foto dove saranno due a due, avremo dei look un po' eleganti. E sarà sempre sul campo di calcio? No, oggi facciamo qui la foto di gruppo, che è poi quella che va in copertina, e nei prossimi shooting faremo in varie location a Bolzano e una a Bresanone. Andiamo a conoscerle? Sì. Andiamo a conoscerle. Tu sei una fotografa? No, non è vero. Sono una panchina. No, l'infortunata della squadra mi sono messa fuori a farle. Ma voi? L'infortunata? Sì. Perché? Sono fuori da due mesi, ho iniziato ieri a fare l'allenamento. Ma quindi in bocca al lupo, io ti dico. Crepito. E cosa? E quindi mi metteva fuori a farle foto, no? Lidia, tu sei il nostro portiere. Il portiere di CF, si giro il pentolamen. Ciao, io sono Marlis. Dimi, quanta ne hai? 24.